Stasera friggerò una scarpa iconica che è l'Ulstar, la bottiglietta della Coca-Cola e se me lo fanno fare un mouse della Apple, se no in alternativa una rivista. Perché sono icone del nostro tempo che cercano di farcele digerire in qualsiasi modo io cerco di farlo digerire con la pastella, che rende figo, che la frittura rende tutto più buono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.